E quindi praticamente man mano stavo maturando questa decisione di sfiduciare il sindaco. La goccia che ha fatto poi traboccare il vaso è stata questa praticamente nell'ultimo consiglio comunale. Io ho visto praticamente un filo diretto tra il sindaco, il padre del sindaco e la sorella del sindaco. E' come se praticamente il sindaco avesse una completa dipendenza dalla famiglia. Questa è la cosa che mi ha fatto decidere di staccare la spina. Anche poi c'è stata la dichiarazione di sfiducia da parte del consigliere Stellato e quindi praticamente ho maturato questa dica. Ma il sindaco è come se si fosse autospiduciato perché negli ultimi tempi ha dato un mandato completo alla sorella, gestiva il comando dei vigili urbani, ha gestito i servizi sociali ed è una cosa che veramente gli ha dato molto fastidio. Quindi spero che andiamo a queste prossime elezioni cercando consensi e di avere un sindaco veramente capace di gestirsi da solo e di non farsi condizionare. Grazie per la visione!